Due anni dopo la pandemia siamo qui al primo maggio col pubblico, veramente emozionante, bellissimo e proprio spero sia il nuovo inizio questo. Io credo che un po' di più la consapevolezza che la musica sia un lavoro, che ci sono tanti lavoratori dello spettacolo che stanno anche dietro le quinte, oltre agli artisti, c'è proprio un mondo. Che questo sia un lavoro è in dubbio e spero che sempre di più la gente prenda consapevolezza di questo. La musica in questo momento in cui la guerra in Ucraina sta in un momento critico, credo che possa portare dei messaggi positivi e che debba creare unione. Non penso che la musica debba stare fuori, al di fuori di queste questioni perché chi lo vuole fare non è ovviamente un obbligo, però ha tutto il diritto di esprimere la propria opinione e di cercare di contribuire anche con una voce.